E' stato un intervento assolutamente inefficace, nonché uno spreco di denaro pubblico a mio parere. Assolutamente, non si vuole andare all'occhio del problema. Lo spaccio si è semplicemente spostato più vicino alle nostre case, di noi che abitiamo in questa bella via, ed è ininterrotto, continua. Stanno creando un mercato, lo stanno alimentando. Mossa inutile, secondo me almeno, mio modesto parere, perché abito qua vicino e quindi li vedo sempre. E' sempre uguale, non è che cambierà solo perché hanno buttato giù i cubi. Mentre prima chi spazza e chi frequenta erano all'interno del parco, adesso sono all'imboccatura del parco, quindi per residenti di via Motta e per chi vuole accedere al parco è costretto letteralmente a venirci in contatto, a passarci in mezzo, insomma, quindi chi spaccia noi ce lo ritroviamo in mezzo davanti ai cancelli, quindi direi che la situazione per assurdo è peggiorata decisamente. L'abbattimento dei cubi al parco Vissuola di Mestre, dunque, secondo quanto ci raccontano, molti residenti della zona ormai esasperati non ha fatto demordere gli spacciatori, portandoli semplicemente a cambiare zona. Il luogo che avevano di ritrovo è diventato questo. Non ha servito a niente, comunque questo è un posto perfetto. Guarda, le macchine si fermano, come questo qua, e acquistano, insomma, è semplice, no? Cioè per me è ovvio perché ci abito, quindi ogni giorno, tutto il giorno è così. Pur confermando la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e dei militari, i cittadini sono concordi nel dire che questo non è sufficiente, tanto radicata è l'attività degli spacciatori. È intollerabile il fatto che sia diventato normale e non è pensabile di intervenire in questo modo. Bisognerebbe poi intervenire anche su chi consuma e sui giovanissimi, che, raccontano, stanno aumentando in misura preoccupante. Chi consuma sarebbe opportuno si prendesse le sue responsabilità e agisse di conseguenza, insomma. Fare molta prevenzione sulle scuole, ci aspettiamo questo, molta prevenzione sulle scuole limitrofe, intervenire su chi acquista per far capire che sei in vetrina, ok? Intervenire su vari target di acquisto, perché non ci sono solo i ragazzini, a Capodanno c'è la coda, sotto le feste c'è la coda, è visibilissima. Intanto la procura ha aperto un fascicolo contro i gnoti per minacce aggravate nei confronti del sindaco Brugnaro dopo la segnalazione della Digos in merito al graffitto apparso in un condominio della zona in cui si vede un giovane che spara una pallottola e si legge Brugnaro, mangiati una. Grazie.